Ciao a tutti amici, benvenuti e bentornati su ThePlanetCrafter Come al solito io sono Moroce Vidal, benvenuti in questo unissimo video Sento la pioggia, sta piovendo in questo gioco Come al solito vi ricordo comunque di supportare questa serie con un bel mi piace, commento e una condivisione Di iscrivervi al canale se siete già iscritti e attivare la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo, Telegram Tutti i link sono in descrizione come anche la playlist di questa fantastica serie E in descrizione anche i stand game, piattaforma per comprare giochi come questo E come quelli che porto sul canale, ma a prezzi scontati, mi raccomando, link in descrizione Guardate qua, ormai siamo arrivati quasi al 100% Eccolo qua, e adesso da Muschia a Floro, a Flora, non Floro, a Flora Nuovo progetto ricevuto, bene, 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 andiamo a vedere Ma non ci sono delle porte qui, ho fatto delle modifiche alla base che non ho ancora finito Ne finiremo adesso, penso, se riesco Queste le abbiamo, sì, mi serve un bel po' di ferro però, credo E non solo, perché voglio fare un'altra di queste Non ho già materiali Il problema è che non c'è il ferro Potrebbe essere un piccolo problema Allora, usciamo dalla solita porta Diamo un'occhiata al mondo, intanto sta piovendo Guardate qua, c'è stata subito una modifica Vedete che qui ho dovuto alzare questo piano Che poi vi ricorderò, farò tutto in vetro Sarà bello da vedere, trasparenze, oggettini vari, luci Lo facciamo, magari già nella prossima puntata iniziamo a fare questa cosa qua Ma vedete che ho dovuto spostare questa qua, che è la biocupola G2 Dalla parte di qua, prima non dalla parte di là Ma soprattutto alzarla di due livelli Perché? Perché incocciava contro quella roccia lì Ma bisogna farla anche dall'altra parte Davanti la base ha subito un cambiamento Intanto vi faccio vedere che è diventato tutto verde Ma guardate davanti la base Ha subito un grosso cambiamento Perché adesso abbiamo le scale anche davanti Con un pezzo di balcone Bisogna balconare tutto, bisogna mettere le luci Bisogna fare un po' di cose Ma guardate, scala di qua, scala di là Quindi qua poi ci sarà tutto il balcone che gira Guardate che bel balcone Che dà verso il lago Stupenda vista Piattaforma, mo' ce la guardiamo E andiamo qua e siamo già dentro la base Al piano giusto Poi saliamo verso la base Qua diventerà tutto trasparente comunque Quindi ci saranno tanti lavori da fare Mille lavori da fare Ora, andiamo qua a vedere Allora, adesso c'è lo stadio attuale muschio Stiamo andando verso la flora Flora che cosa vuol dire? Piante Vuol dire piante La flora è le piante Le prime piante Quindi andiamo a continuare un po' quello che stavo facendo Però mi serve il ferro Io non ho molto ferro Ora iniziamo a piazzare i materiali Allora, c'è da andare qua E qua Ecco qua Ho fatto sto coso qua Che è solo da appoggio Non serve per chissà che scopo Ma è solo da appoggio Poi una volta non riesco a salire E a volte sì Ok Qua dobbiamo continuare Attendo un altro di questi Un altro di questi E adesso è finito il ferro No, il ferro c'è ancora E ce ne sono qua Uno, due, tre E poi la cupola Uno, due, tre E poi la cupola Guardate dall'alto Come è cambiato il pianeta Vi dico sempre Guardate le prime puntate La prima puntata È assurda Le prime puntate Peggio ancora Assurdo dell'assurdo E l'abbiamo fatto Ok Abbiamo due bio cupole Fantastica Buttiamoci Anzi, buttiamoci mica tanto Volevo fare anche un'altra cosuccia Prima Andiamo su Andiamo su Andiamo qua Sì E prima di buttarci Vedere un po' l'effetto che fa Sono una cosa Via 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 E via Dobbiamo ripulire un po' l'aria Vai Andiamo qui Eccoci qua Mamma mia Guardate qua Guardate qua E non è finita Immaginatela Tutto trasparente Con le luci Poi ci sarà la parte in alto L'antenna andrà messa poi in alto O in uno dei bracci Dopo vediamo di capire Poi voglio fare anche comunque Più o meno qua Circa in mezzo Un bel balcone che esce fuori Anche qui Tutto trasparente Fatto bene Cioè Una roba fatta bene Però vedete che la base Un po' alla volta Si sta formando Quella che aveva in testa Si inizia a formare Una base non consueta Poi Vanno messi gli angolari E lì non ci sono neanche gli angolari Cioè c'è un po' di roba da Da fare Siamo Non ancora alle rifiniture Perché siamo lontani dalle rifiniture Ma come vedete Un po' alla volta Riusciamo a fare un bel lavoro Lì non so perché Gira del cobalto buttato Forse un bombardamento Qualche altra cosa Ma Andiamo avanti Allora Qua si è sbloccata Una cosa Molto importante Cioè questo Il riscaldatore G4 Rispetto al G3 Questo qua Il G3 dava 28 di calore E pressione 0,6 Qua abbiamo calore 538 E pressione 35 Consuma più energia Pari a Circa 4 di questi Ma produce un botto In più di calore Sarebbe da fare Per farlo però Ci serve fare Come vedete qui La polvere esplosiva Che se non erro Non abbiamo Qua poi ho fatto Sono andato avanti Col magazzino Ho iniziato a fare Altre ceste Altre cose Che comunque servivano Perché guardate Zolfo, alghe Altre cose Però vabbè Qua non ci sono Semi Qua ci sono i semi Semi Non già sistemare Lì c'è dall'alluminio Perché l'alluminio È una cassa piena Quindi purtroppo È così Ora Facciamo una cosa Andiamo a vedere Qua Guarda anche i cartelli E tipo qua Non c'è una mazza Io qua Visto che tutte le volte Dico devo fare i cartelli Serve il magneto Facciamo questi cavolo di cartelli Serve il magnesio Prendiamo Uno, due, tre Quattro, cinque Penso che basti Allora andiamo sopra qua Qua c'è il cartello Sì Biocupola settore Che poi sarebbe Biocupole Perché sono due Andiamo sopra di uno Produzione settore Perché qua Teore dovremmo mettere Anche l'altro Ma andiamo a vedere Sopra qua Non c'è una mazza Quindi scriviamo Qua è il dritto Sì Così Qua Nada Che vuol dire Non c'è niente Nada Qua c'è qualcosa Sì Qua c'è il coso lì Il laboratorio lì Quindi Qua è praticamente Andiamo a vedere Che è Questo Il biolaboratorio Quindi E poi Magari ne facciamo un altro Capiamo Non è indispensabile Però Comunque Potremmo farne Il nostro Quindi Biolaboratorio Biolaboratorio Peccato che va a capo Tanto che siamo qua E assistiamo al bombardamento E al bombardamento Di Un botto di roba Come si fa questo? Zolfo Zolfo Iridio Allora facciamo subito No Avanti Però Sopra qua Cosa c'è? Niente Quindi questo qua Nada E che cavolo Basta bombardare Nada Ok Poi andiamo sopra di uno Qua cosa c'è? Nada Quindi anche questo Nada 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 Ok Poi andiamo sopra di uno Qua invece sì Troviamo le biocupole G2 Quindi qua Biocupola G2 Dobbiamo anche bere Va bene Adesso beviamo Biocupole Biocupole Via Ok Almeno so esattamente dove sono Nada Nada Biolaboratorio Peccato che è a capo Nada Produzione settore Biocupola settore E questo qua è il magazzino Ovviamente questo qua è il magazzino Abbiamo finito il magnesio Ma meno male che sia nel magazzino Perché basta uno di questi Che cavolo sta succedendo E basta Magazzino E che cavolo Basta Ancora Via Allora Esploso Un botto di roba Non ho visto neanche uno Cadere dove E là è caduto qualcosa Guardate cosa è cambiato il pianeta Pazzesco Veramente pazzesco Ora andiamo però a prendere Ho recuperato un po' di zolfo Quindi uno due Ne serviva solo una Mi pare Per fare questa Sì di polvere da sparo Quindi tre Superlega Allora il ridio ne serve uno Due di queste Superlega Due mi sembra Se non erro Tre Tre E poi la polvere esplosiva Che abbiamo tutto Quindi saliamo Biocupola Produzione settore Nada Biolaboratorio Più comodo adesso Andiamo qui Tac Che fatto Torniamo giù Di uno in realtà Di due Qua Eccoci qua E qua facciamo appunto questo Che è abnorme Bello grosso Forse ci sta anche fuori a questo punto Veramente enorme sto coso Ma è enorme Ci sta anche fuori questo coso qua Forse va anche fuori Sì Va anche fuori Va anche fuori Sticchiavoli È enorme È enorme sto coso Quindi là In teoria Abbiamo liberato anche uno spazio Eh guarda qua dove sono caduti Guardali qua Guardali qua che casino Che ha fatto Ma roba buona questa eh Perro ci manca Allora queste vanno messo qua Eh guarda qua Capito anche qua Materiali a go go Allora qua bisogna Sicuramente Trovare un posto Per mettere quei cosi qua La pecca di tutto È che non puoi metterli Tipo qui Sarebbe stato bellissimo Perché si vedono da lontano Però però Possiamo metterli magari sopra Qui Forse sì Attenzione Andiamo su di uno Perché qua In questa zona qui Cavoli Allora No 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 non giù Su Su Esci E questa è la zona E sotto qua o su Eh Sopra uguale Andiamo a vedere Eh sì Puoi metterli anche fuori I cavoli Cioè si potrebbe mettere anche qua Mi stai dicendo E qua non ha senso Ma sopra potrebbe far parte della decorazione della base anche Oltre a essere funzionale Proviamo Mamma mia Andiamo a vedere Andiamo a vedere subito Beh Hai capito com'è la base Eh sì Mettiamo fuori questi qua Torna la base Magari quattro lati Poi sopra Queste cose che girano Mamma mia Ho visto la base come sta cambiando Vedete La puntata è importante anche andare avanti Con la base Andiamo a vedere lo schermo qua Lo schermo qua ci dice Al 3,22% Quindi stiamo andando avanti abbastanza bene Ovviamente adesso abbiamo fatto un ulteriore upgrade Dovremmo lanciare qualche missile Ma Abbiamo sbloccato anche questo Lo schermo della biomassa Mostro informazioni sulla biomassa Andiamo a farlo E per farlo Mi ricordo che qua Avevamo visto Sì Ecco questo va bene Allora un bello schermino Dove lo mettiamo? Io lo metterei qui Lo metterei qui Quindi via questo un attimo Lo rimettiamo ovviamente Però lo mettiamo così E da questa parte qua Mettiamo questo qua Ah ma è grosso è questo qua Sti cavolo Allora no Allora no Anche smantella l'unità abitativa Io voglio smantellar qui Non l'unità abitativa Non te smantello tutto Questo qua lo mettiamo qua E qua Lo mettiamo qui Lo mettiamo qua E ci sta A bestarci Metterlo qui Qua Più o meno alla stessa altezza Là Ok E qua vediamo Piante che poi è il monitor che c'era sopra Piante Insetti non ci sono Animali Ok Piante stiamo fabbricando qualcosa Ma poca roba A proposito di piante Eh 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 Perché qua adesso Io cupole non ci interessano Produzione ci interessa Nada non ci interessa Biolaboratorio non ci interessa Nada non ci interessa Nada non ci interessa Queste qua sì Queste qua sì Due di corteccia Due di corteccia E altri due di corteccia Poi adesso che abbiamo fatto questa cosa qua Io vorrei anche Vorrei anche capire una cosuccia Se è possibile farla senza fare troppo casino Cioè che cosa Vi ricordate quando vi ho detto Mettiamo la Lanciarazzi Eh sì Lanciarazzi Sì vabbè La postazione di Lanciarazzi 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 L'A Che è questo Tre di superlega ancora Uno due tre Ok Possiamo pensare di farlo Mangia un E pesca un altro Allora appena trovo Ma poi Sa che le ceste Devo un po' riordinarle Per Per tipo Nel senso che La corteccia Non può stare Perché vedete Non c'era Eccolo Deve stare vicino alle cose Che hanno un senso Affine Affine Sutili Comunque allora L'idea era di fare La postazione Lanciarazzi Lì Chiamiamola Lanciarazzi E qua Ventolazzano le cose Perché è caduto il Meteorite E l'idea potrebbe essere Sì farla qua Assolutissimamente Però farla qua Cosa vuol dire? Innanzitutto ci sta Perché qua Oh sì che ci sta qua Nell'acqua no Dove la stava mettendo prima Sì che adesso Non trovo più il punto Maledetto Fammela mettere Perché l'avevi messa prima Tiro su questo Vado a che magari Rompe le scatole Anche questo Perché poi vedete Siamo praticamente Davanti no Quindi dovrebbe essere anche Un buon problema Che uno non trova più Il punto L'ho trovato prima Ah qua lo mette Qua lo mette Qua no Qua no Il sistema di costruzione Non mi fa esaltare In questo gioco Non mi ha mai fatto esaltare In realtà È un po' È un po' Segue un po' Le delle logiche Non troppo perfette Non troppo Diciamo Parere mio eh Poi Ma possiamo metterlo qua Qua vai Andiamo a vedere E peccato che c'è la scala di qui Però Cioè va bene uguale eh Perché comunque La scala di ingresso è qua Ed è davanti alla nostra base Quindi io direi Quasi cose di lasciarlo qua Ora Qua ci sono tutti i razzi Quindi non è che succede qualcosa Posso smantellare l'altra E poi L'altra cosa da fare Sicuramente È tramite questi Creare Una Sorta di Piattaforma Che può essere anche alta Così volendo Che va verso la base Ora più o meno Più o meno Una roba così Io non so quanto ferro Ma sicuramente Non ne ho tanto Però vedete Più o meno Arriva lì Arriva lì Io ne vorrei fare un'altra qua Che vedete Non la fa mettere però Maledetto Di qua la fa mettere Va bene Facciamola singola allora Facciamola per ora singola Perché poi ci mettiamo anche Questi La recinzione Ce la mettiamo Te vi faccio vedere così Tac Tutta qua La recinzione Fino Alla base lì E abbiamo il nostro Missile qua Lancia missile Ora questo qua Lo facciamo fuori Perché anche qua Ci può essere D'aiuto Sto morrendo per l'ossigeno Può essere d'aiuto Con la zona lì Più avanti Andiamo di qua Visto che adesso possiamo Wow Fatto Per l'ossigeno Che qua Senza ossigeno Non mi piace Senza ossigeno Non mi piace per niente Andiamo a farci uno Di ossigeno Come si faceva Con il combatto Vai Ok direi di scaricare Le cose Adesso abbiamo fatto Un bel po' Per la base Abbiamo fatto anche Questa roba qua Non male Ora io Andrei all'esplorazione Là Nella zona fungosa Come vi ho detto Nella scorsa puntata Andiamo nella zona fungosa E capiamo I prossimi misteri Che sicuramente lì Qualche mistero Lo capirei Siamo vicinissimi Siamo vicinissimi Perché vedete Qua c'è l'astronave Abbandonata uno Il terreno vulcanico Che bisogna andare Assolutamente Un'altra cesta Ho beccata già una Acqua Che ci può essere Molto utile E qua Vedete L'ambiente fungoso È da questa parte qua E qua c'è una bella base Provisoria Fatta È molto importante Farle Uhuh Dentro un po' di roba Che si potrebbe scaricare Ma direi di no Direi di andare Verso l'ambiente fungoso L'ambiente fungoso E lì facciamo Un'altra base Non ricordo se C'era una base lì Ma la facciamo Ma la facciamo Allora Ambiente fungoso È qua dentro Eccolo qua Non c'è la base Perfetto La facciamo subito La base Stiamo sparando Base 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 Un po' Un po' Un ectonismo Però Un qualcosa Ah Ok Allora Vediamo un po' Abbiamo anche la possibilità Di fare uno di questi Che male non fa Scarichiamo Via 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 Anche l'acqua Via 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 E via Perfetto Vediamo il set base E andiamo a vedere Questo ambiente fungoso Molto fungoso Un ambiente fungosissimo Perché qua nella beta Guardate Già C'era qualcosa di strano E lo vedete anche qua Guardate C'è Sì l'ambiente in sé Molto bello Devo dire Molto bello Molto Ma come vedete ci sono delle costruzioni qui Delle costruzioni guardate Questo è legno È legno questo Qua è legno E qua c'è un messaggio Questa grotta sotterranea è una benedizione per noi custodi Attenzione Chi sono i custodi? Ci sono un sacco di risorse ed è situato nel sottosuolo permettendoci così di rimanere nascosti dallo spazio cosmico Questo pianeta è stato scelto davvero con cura e adesso capisco il perché Non vedo l'ora di iniziare a costruire il nostro insediamento e adiempiere al nostro destino Avete visto? Qua c'è un bel messaggino del custode Non si salanno però Però Attenzione qua c'è altra roba Apri l'altare del custode Con Un simbolo di un robo da metterci dentro Adesso arriva un altro bombardamento Che apre guardate le porte qua E grazie per il bombardamento nel mentre Sono qua dentro Mazza oh Oh microchip che ci serve A recuperare anche ossigeno Ma qua è importante fare una bella esplorazione E basta bombardare Basta Una bella esplorazione Ma anche è importante andare a recuperare Acqua Guardate lì Il fungo più grosso degli altri Che vedete Stavo diventando sordo a sentire queste cose Sono uscito a recuperare un po' d'ossigeno Andiamo dalla parte di qua Perché dobbiamo esplorare per bene questa zona qui Infatti quello di qui è l'albero centrale che vedevamo Dall'altra parte Molto interessante E tutta questa zona qua Se non erro Anche lì c'è un albero Se non erro questa zona qua Non era esplorabile prima Cioè È esplorabile nel momento in cui Guardate qua altri pezzi È esplorabile nel momento in cui Il vostro Tra virgolette La vostra terraformazione Va Va avanti Il livello di trattazione è basso Non è un problema Ma aspettiamo Sto cercando di capire Se ci sono Altre cose Oltre al messaggio lì A parte che abbiamo trovato Una sorta di accesso Accesso a cosa? A questo Posto Dove ci sono questi custodi Chi sono i custodi? Non si sa Non lo sappiamo Qua si esce Si esce In un'altra zona Guardate Ah questa C'è la cascata qua Guardate Di lì c'è l'astronave abbandonata E qua c'è una cascata Lì c'è l'ambiente lunare Hanno altri segreti Ok però Bisogna qua Bisogna capire Se c'è altre cose Non pare di averle viste Però Continuiamo a fare il giro Magari roba imboscata Da qualche parte c'è Vedete Tipo qua Non si sa mai Vedete un portale Quindi Qua Attenzione Questo vuol dire una cosa Piccola riflessione Piccola riflessione Cioè In questo posto Eccolo lì Un'altra Guardate Apri l'altare del custode La chiave del custode Questo misterioso dispositivo Sembra essere Per aprire il meccanismo Sappiamo già Dove metterlo adesso E giusto per dirvi Allora Adesso che dobbiamo Tornare All'ambiente Di qua Allora Qui Cosa abbiamo Abbiamo Questi Tra virgolette Prigionieri O Quello che potrebbero essere Dei prigionieri Che cosa succede Questi qua Vengono Mandati In In questo posto In questo posto In questo pianeta Probabilmente anche in altri pianeti E hanno il compito Di terraformare Il posto Questo è il loro compito Ora A parte terraformare Il pianeta in sé Abbiamo visto Che ci sono anche Questi custodi Molto interessante Come cosa Ora io Per essere sicuro Però Di non fare Paccate Prane Io mi porto Anche un set Base Per fare Una base Appunto Quindi questo E questo Serve il cobalto Che comunque Qua Lo abbiamo Quindi ferro E altre cosucce E tanto qua Si aveva due di ferro 1 1 1 Recuperiamo ossigeno E a questo punto Andiamo nel portale Sti cavoli Pronti per il portale E ve l'ho detto In ogni puntata Un po' Si fa La base Un po' Si fa avanti Con la terraformazione Si investiga Vai E infatti Si apre la porta Si apre questa Fottuta porta E adesso Sarà interessante Capire cosa c'è Dietro questa Fottuta porta Porta che si apre Con calma Forse non so Si si apre tutta Insomma Anche qua La dimensione Fa capire Che i coloni Non era gente Abnorme Perché vedete Le porte Sono quelle che sono C'è da dire Un'altra cosa Questi planet crafter Che vengono mandati qua Comunque qua In questo posto qui Ci sono C'erano Altre popolazioni Guardate qua Attenzione In principio La somiglianza Vi lasciò Sbalorditi Eravamo pressoché Identici I nostri scienziati Attribuirono Ciò alla perfetta Corrispondenza Dei nostri corpi celesti Ragion per cui Le nostre evoluzioni Pure indipendenti Avevano seguito Percorsi simili Era come Incontrare un cugino Di cui non si era conoscenza Anzi Quando iniziarono Gli sbarchi Su train 3A Ci chiamarono persino Fratelli Da poche astronavi Si arrivò a decine E lentamente Le nostre preoccupazioni Aumentarono Le differenze sostanziali Si celavano in profondità Eravamo biologicamente Identici Ma le nostre menti Si erano evolute In maniera diversa Fu opera del destino O della natura O della natura Ad ogni modo Quando lo comprendemmo Era ormai troppo tardi Un custode Questo custode Sta credo Parlando Dei planet crafter Immagino Cioè Sta dicendo Cavolo sono uguali a noi Cioè anche se Siamo di evoluzioni diverse In posti diversi Ha seguito una sorta E siamo praticamente Identici Dopo tutti questi anni Tanta sofferenza Abbiamo deciso Di abbandonare La nostra terra Natia Cioè quella dove sono nati Di andare il più lontano possibile Per costruire una nuova casa Lontani dal terrore Lontani dalle lotte Lontani da loro Se sono i dei planet crafter O comunque gli umani Questi sono scappati via Per nasconderci e vivere Come abbiamo fatto per secoli Abbiamo scelto con cura Un luogo sicuro Abbiamo radunato Gli ultimi della nostra specie Sulla nostra nave più grande E durante una fatidica notte Siamo partiti Fuggivamo più dalla loro Bramosa insaziabile Che da loro stessi Sti cavoli Allora Poi è successa un po' Una cosa strana Sembrerebbe Tanto vado a recuperare Un po' d'ossigeno Allora sembrerebbe che Praticamente C'erano questi coloni Che avevano dei Tra virgolette Dei Una popolazione Comunque somigliante a loro Potremmo essere noi Noi umani Potrebbe non esserlo E cosa è successo? Praticamente Siamo arrivati nel Cioè sono arrivati Sono arrivati nel loro pianeta È successo qualche danno Li hanno sterminati Questi sono scappati E non so se sono arrivati qua O da qua Sono partiti Questo non lo sappiamo ancora Però potrebbero essere arrivati qua Forse Potrebbero Perché qua Le notizie sono qui Quindi immagino Potrebbero essere finiti qui Notate una cosa Notiamo una cosa Che Qua Si sono schiantate Delle astronavi Nostre Nostre Quindi può essere Che in qualche modo Noi eravamo in guerra con loro Per qualche ragione Lo capiremo Sicuramente lo capiremo Però stiamo iniziando Ad assaporare anche la lore Ora qua c'è qualcosa Sì E c'è Guardate qua Allora Lo prendiamo Chiave del custode Quindi un'altra chiave Ma Guardate Ha Vedete Una Una coordinata Che è quella Che trovate in basso qua Noi adesso siamo A meno 436 Meno 40 Meno 27 Dobbiamo andare a 964 68 1744 E la chiave Questa Apre quella coordinata lì Quindi Importante Andare assolutissimamente A quella coordinata lì Ma qua c'è Altro Attenzione Qua c'è altro Ma purtroppo Io non mi butto da qua Perché anche nella beta Mi sembra che Non mi ero buttato Ma si vede Comunque una Sorta di navicella Questa è una navicella Nascosta Se lo sono arrivati qua Con la navicella Se la sono nascosta Notate che il jetpack Non va qua Ad esempio Quindi anche lì Buttarsi Sarebbe un suicidio Però Devo dire che Abbiamo adesso Una coordinata Per andare In quel posto là Vi ricordo La coordinata Essere questa Mi sto dirigendo Verso casa Dopo questa puntata Abbiamo fatto tutto In questa puntata Ma Manca ancora una cosuccia Manca ancora una cosuccia Poi io off camera Andrò avanti Un po' Con la base La abbellirò un attimo Potenzerò Magari sparerò Anche qualche razzo Sistemeremo Sistemerò Anzi Qua la cosa Poi sistemeremo Assieme Nella prossima puntata Altri dettagli E andremo avanti Comunque Guardate qua Chiaro che Immaginate la trasparente Immaginate la con le luci Immaginate la rifinita Insomma Poi possiamo mettere fuori Quei robi lì Eccezionale Diventa proprio Una roba bella Poi adesso Lo andrò a mettere meglio Perché lì è un po' Fuori Insomma Bisogna andare anche Sul dettaglio Oltre che Andare Come stiamo facendo Bene Avanti nel gioco Qua come siamo messi 16% Non è tanto Muschio Non se ne vede ancora Però Però Vediamo Intanto andiamo qua Abbiamo uno di questi Decodifichiamo E Filtro Per Del menu di costruzione Cavolo è il filtro Del menu di costruzione Dove cavolo è? Qua Nasconde gli oggetti Di livello inferiore Dal menu di costruzione Fantastico Cioè È quello che vi dicevo io Fondamentalmente È quello che vi dicevo io Cioè Non guardiamo più I G1 I G2 I G3 Ma solo i G4 Se abbiamo i G4 Solo i G3 Se il G3 è il più alto di tutti Solo il G2 Se il G2 è il più alto di tutti E così via È una cosa molto utile Ora amici Mentre io sistemo tutto Vi dico che per questa puntata è tutto Mi raccomando Supportate questa serie Con un bel mi piace Comment e una condivisione Iscrivetevi al canale Se siete già iscritti E attivate la campanella Pagina Instagram Pagina Facebook Gruppo Telegram Tutti i link sono in descrizione Come anche in descrizione La playlist Di questa fantastica serie Che vedete che In ogni puntata Stiamo andando avanti Alla grande Vi ricordo Anche Instant Gaming Una piattaforma Per comprare giochi Proprio come questo Ma a prezzi scontati Mi raccomando Potete utilizzarla Per prendere dei giochi E non pagarli a prezzo intero Questo Se li trovate Perché Poi dipende anche dal periodo Da tante cose Però Avete questa possibilità Questo non c'è tra niente qua Bene Da Amoruge è tutto E ci vediamo al prossimo Fututo video Ciao a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti